Ragazzoli belli eccoci qua a parlare delle fake news, sì, le fake news all'epoca del corona, virus, proprio così. Bene, giusto per non sentirmi solo sul letto, mi sono portato una birretta, la Moretti poi, tra l'altro, che è una birra che mando giù volentieri, molto soft, molto leggera, senza pretese, e mi gusta, mi piace, mi garba. E... fatemi compagnie anche voi, che ne so, con sette pischelli, magari con un succo di mertilli, con una gasosa, con un crudino, anche con un bitter d'acqua, ma giusto per stare vicini virtualmente, beviamoci insieme ragazzi belli e ragazzi cari. Prima di parlare delle news, prima di parlare delle fake news, scarichiamo OneFootball per avere le news e non le fake news, appunto. Mamma mia che gioco di parole nauseante, nauseabondo. In descrizione c'è il link, l'app è gratuita, c'è solo da fare una cosa, che è quella di scaricarla in modo semplice e gratuito. Sto diventando sempre più bravo. Mi vedrete come un nuovo Giorgio Mastrota in TV, prima o poi, forse sì, forse no. Boh. È buona. No, la Moretti è buona, è buona, va bene, ci sta, è tranquilla, ripeto, senza pretese. Sapete ormai che il virus sta sempre lì a diffondersi, si è parlato oggi di Garai, del Valencia, che è stata la squadra che ha affrontato di recente l'Atalanta, per cui inevitabilmente anche loro si sono ritrovati un sacco di giocatori contagiati. E ripeto, ogni volta che arrivano queste notizie io mi ritrovo a dire, ragazzi, era inevitabile, è inevitabile, sarà inevitabile. Ormai purtroppo è diventata una consuetudine, inutile negarlo. Detto questo, andiamo a Cristiano Ronaldo, andiamo alla fake news, andiamo soprattutto a chi queste fake news le ha lanciate. Barca, quotidiano spagnolo, che stamani se ne esce appunto con un tweet, con l'articolo, compagnia bella, dicendo Cristiano Ronaldo adibisce la sua catena di hotel a mo' di ospedali. Praticamente avrebbe trasformato, avrebbe messo a disposizione la sua catena di hotel per far sì che poi vengano usate queste strutture come ospedali, strutture sanitari, chiamatelo come vi pare, in modo che si possa prevenire, o meglio, curare il coronavirus, ste robe qua, ste robe qua praticamente. E dopo un po' questa notizia è stata, almeno per quanto riguarda Marche, è stata cancellata, assolutamente si è cancellato il tweet, si è cancellato l'articolo, però è strano, fa veramente riflettere il fatto di come una notizia, una volta lanciata, una volta che entra nel circolo vizioso dei social, poi no, 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 è inutile poi cancellare, poi fa quello che vuoi, ma via, si va a galoppo, si va a galoppo, è come, che ne so, come qualsiasi cosa che una volta che è entrata dentro di te non la mandi via neanche se ti mozzi un braccio, per fare un esempio eloquente. E così è una news, una notizia che è stata subito ripresa poi dai nostri quotidiani, dalle nostre testate che ci marciano su e subito l'hanno diffusa un po' ovunque. E fa strano, fa strano come dei quotidiani, come delle testate così note, poi non vadano a valutare la veridicità di alcune fonti. E sta cosa fa un po' strano e credo soprattutto che sia proprio irrispettosa, in questo caso nei confronti di Ronaldo stesso, che è una vera e propria vittima. Io lo dico tranquillamente perché poi c'è da dire che così si mette in imbarazzo anche il nome di un giocatore importante, perché poi lo si mette in condizione quasi di doverle fare alcuni gesti e non è una cosa piacevole secondo me. È anche vero che in molti lo dicono, sì, ma lui tanto ha i soldi, può fare quello che vuole, può fare questo se non può farlo lui. Ogni gesto ha il suo valore. Non importa se tu ne hai o meno la possibilità. È ovvio che se non ne hai proprio la possibilità non la puoi proprio fare. ma se ne hai la possibilità nessuno ti obbliga a farla un qualcosa. Per cui io non sminuirei alcuni... Non sminuirei soprattutto quelli che in questo momento stanno aiutando tantissimo comunque a soccombere in un momento così delegato. Per cui io non capisco quelli che tendono sempre a minimizzare e a dire sì, ma, sì, ma, sì, ma che, ma sì, ma cosa, sì, ma perché, sì, ma quando. Se c'è qualcuno che fa qualcosa di bello, o se lo può permetterlo o meno, va valorizzato quel qualcosa di bello. Io conosco un sacco di gente che ha soldi su soldi ed è avara ed è taccagna che manca i cani. Per cui io non capisco sempre questo sì, ma, sì, ma, sì, ma. Ah, sì, niente, se ha fatto una cosa di bello, ha fatto qualcosa di bello. Qui non stiamo a commentare qualcosa di bello, stiamo a commentare una fake news, però fatto sta che per chi compie gesti importanti vanno valorizzati, vanno valorizzati, punto in bianco. E su Ronaldo comunque va detto che è uno che ha comunicato, secondo me, bene, molte, ho letto, diciamo, quanto ha fatto sapere tramite Instagram il suo messaggio, più che altro da privato, da persone, non da calciatore, per tanti comunque aiutini che comunque privatamente porta avanti. Io non sminuisco nulla, a me non piace minimizzare, a me non piace sminuire chi compie azioni importanti, però allo stesso tempo dico che ci vuole rispetto e vanno valutate. Cioè queste fake news hanno comunque una potenza e un impatto devastante, un impatto importante, per cui prima, prima veramente di mandare avanti una fonte, una notizia, bisogna documentarla, bisogna documentarla perché, ripeto, hanno una valenza troppo, troppo importante ad oggi, hanno una valenza troppo importante, si dice, si discute sul fatto sì, ma adesso le cose importanti sono, eppure, se le cose importanti sono altre, eppure di Ronaldo che ha commesso meno sto gesto, oggi ne parlano tutti, allora come cazzo è? Ne parlano tutti. Perciò stiamo attenti, stiamo veramente attenti, specialmente chi ha tanta responsabilità, stia molto, molto attento, stia veramente, cerchi di tutelare anche gli interessi altrui, e non solo i propri, va bene? Un po' meno drammatico, ma ci sta in questo periodo dove ci troviamo un po' isolati. Veniamoci su e restiamoci a casa, restiamo uniti, e abbracciamoci appena sarà possibile, per farlo presto, restiamo a casa ragazzi. Un grande abbraccio e ci aggiorniamo, va bene? Un bacione, un bacione.